Innanzitutto ci dialogo con il pieno rispetto perché la politica è vero, è anche complessa, ma perché è complesso governare un paese se lo vuoi governare nella democrazia. La democrazia è complessa. L'altro elemento che ho sempre in mente è che io sono convinta che non esista niente nella scienza che non possa essere spiegata. Male se non viene spiegata o se si pensa che non possa essere spiegata. Quindi ogni passo, ogni ipotesi può essere raccontata a un cittadino, può essere raccontata a un politico. Questo è l'unico modo per procedere, quindi comunicare, trovarsi come ci troviamo qui questa mattina, conoscersi, guardarsi in faccia e alimentare la fiducia tra esseri umani che fanno parte della stessa società. Quindi ci devono essere forme di dialogo. Poi sappiamo anche che tante volte questo dialogo è ostacolato da pregiudizi, da comportamenti che forse derivano da dei bias cognitivi che abbiamo nel nostro cervello che ci portano a rifiutare il nuovo, così come cerchiamo a volte, ahimè, rifiutiamo anche il diverso. Quindi qui è quando confliggiamo e quindi bisogna anche un po' imparare ad avere a che fare con questo nostro strano cervello straordinario che crediamo assolutamente razionale, invece è molto emotivo. Quindi in quel dialogo tra scienza e politica dobbiamo anche imparare a utilizzare, attrezzarci di strumenti cognitivi per mettere a nudo i nostri pregiudizi che ci fanno confliggere. Lo scienziato deve molto fare, deve uscire da quei laboratori. Mi rendo conto che lo scienziato sta nei laboratori e ci sta tante ore perché è difficile quello che si studia in quei laboratori, quindi ti devi veramente concentrare, ma se a un certo punto lo scienziato non esce dal laboratorio e non riempie lo spazio pubblico delle informazioni e delle sue competenze, quello spazio verrà riempito dai ciarlatani, dalle fake news, eccetera, qui c'è un dovere sociale dello scienziato. Il cittadino deve fidarsi delle istituzioni e fortunatamente in questa parte del mondo e in Italia noi abbiamo istituzioni sanitarie fenomenali, noi abbiamo il Ministero della Salute, abbiamo l'Istituto Superiore di Sanità, loro sono i nostri riferimenti e sono i nostri riferimenti perché agiscono con competenza, con cognizione di causa, in base alle regole, in base alle procedure, quindi i nostri fari nella nebbia ce li abbiamo, il cittadino può riferirsi a loro.